wow ciao a tutti amici e come sempre benvenuti in cucina con raffi alla grande ragazzi che ne dite oggi di andare a fare dei buonissimi cornetti soffici soffici come una nuvola senza burro e senza uova li andremo a fare con i bimbi oppure con l'impastatrice come volete si possono fare anche a mano ovviamente e poi andremo a cuocere o in forno oppure in frigitrice ad aria allora cominciamo subito con la nostra ricettina allora come primi ci serve 500 grammi di farina manituba una volta inserita la farina andiamo a inserire 120 grammi o di zucchero di canna come sto facendo io oppure zucchero semolato come potete e poi andiamo ad aggiungere una bustina di lievito secco questa di 7 grammi fatto questo adesso ci diamo una mescolatina con le bimbi e quindi portiamo tutto a velocità 6 per qualche secondo una volta fatto questo adesso andremo inserire mezza fiala di aroma alla vaniglia 60 grammi di olio di semi 125 grammi di latte parzialmente scremato poi andremo a inserire 200 grammi di yogurt greco alla vaniglia una volta che abbiamo inserito lo yogurt inseriamo il coperchio mettiamo modalità spiga per tre minuti ebbene ragazzi una volta che abbiamo finito i minuti e guardate che ben impasto bello morbido adesso andiamo inserire due grammi di sale fino e e impassiamo per un altro minuto a questo punto del nostro impasto guardate sempre morbido adesso io lo farò lievitare nel bimbi quindi aspetterò un paio d'ore del suo raddoppio voi nel caso non vi lo potete inserire in una coppetta con una pellicola e o con un canovaccio e mi raccomando se volete fare prima inserite anche una bellissima coperta calda così con il calore raddoppierà più facilmente una volta che abbiamo aspettato il raddoppio del nostro impasto adesso prendiamo il tavoliero un po di farina e andiamo a stendere il nostro impasto una volta che abbiamo lo stesso l'impasto adesso andiamo a tagliare a quattro prima quattro e poi continuiamo a tagliare fatto questo adesso prendiamo un triangolo e andiamo a piegare formando un cornettino lo pieghiamo leggermente e lo andiamo a inserire sul teglia con carta da forno una volta che abbiamo formato i nostri cornettini adesso mettiamo un canovaccio pulito sopra e aspettiamo un'altra retta per il suo raddoppio una volta che abbiamo aspettato il raddoppio adesso andiamo a prendere un po di latta e andiamo a spennellare i nostri cornetchini ebbene ragazzi una volta spennellati i nostri cornetti io li andrò a infornare nella nostra friggitrice ad aria guardate questa è nuova me l'ha regalata mia figlia a natale e quindi andiamo a provare con i nostri cornetti come vengono allora lo andrò andrò a inserire tre e tre qui ci possono mettere parecchie infornate anche tre andremo a inserire i nostri cornetti poi accendiamo la nostra friggitrice l'ho preriscaldata per due tre minuti adesso accendiamo a 180 gradi per otto minuti ok ebbene ragazzi abbiamo sfornato in friggitrice ad aria i nostri cornetti senza burro e senza uova guardate che bontà ovviamente come ho detto prima potete farli anche in forno e non c'è non c'è problema guardate un po raga guardate come vengono bene che sofficità hanno guardate come una nuvola sono veramente buoni 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 perché c'è yogurt e olio e latte non c'è niente li potete anche congelare volendo eh ok mi raccomando raga come dico sempre mi raccomando spolliciamola grande mi raccomando di iscrivervi al mio canale ci vediamo alla prossima e come dico sempre buon appetito